lavare e asciugare e tagliare a metà i pomodorini per poi metterli sulla focaccia istantanea con i pomodorini e l'origano allora se facciamo la farina zero come ho fatto io ecco qua poi aggiungiamo l'olio dopo aver aggiunto l'olio aggiungiamo un cucchiaino di sale mescoliamo un attimo leggermente e poi aggiungiamo l'acqua e il latte io uso sempre il latte parzialmente scremato uniamo anche il lievito quello istantaneo io ho preso questo qui della coppe per pizze torte salata oppure quello della pane angeli metà bustina quindi saranno 7 8 grammi andiamo a mescolare con forza per evitare brumi eccoci qua abbiamo invece il nostro composto nella teglia mi raccomando carta da forno perché se usate l'olio magari poi non si stacca ricopriamo con i pomodorini che abbiamo lavato poi andiamo a prendere l'origano se lo troviamo cospargiamo con un po di olio il pennello e prendiamo l'origano che andremo a mettere un po sopra così sento già il profumo nel forno voilà la nostra tortina salata la mettiamo a 170 gradi ma senza per riscaldare il forno quindi non accendiamo nel momento in cui mettiamo dentro la nostra focaccia verso la fine la portiamo nella parte più alta dove doneremo la superficie quindi 170 175 gradi per circa 30 minuti non accenderemo la superficie quindi Grazie a tutti